Questo video è presentato da... Ehi tu, stai evolvendoti male con Evolversi Male? Il primo gioco di carte sulla scienza brutta è il malessere animale? Sei stanco di lottare con i tuoi amici per accaparrarti una delle sei bestie disagiate di partenza? Anche perché nessuno vuole quella merda di panda? Benissimo! Perché da adesso è disponibile la prima espansione ufficiale! Due nuovi animali con i relativi set di partenza e nuovi assurdi poteri! Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Unboxing Brutti! A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova espansione brutta! Sono molto setoloso, sembro quasi un cinghiale! Prossima scienza brutta sui cinghiali, barbascura? Come al solito nel mercato dell'evoluzione fa sempre caldo! Sai com'è? Con tutti questi animali che fanno all'amore! Il calore aumenta velocemente! Avete troppi amici e ognuno vuole giocare con il proprio animale preferito? Vi do un consiglio! Fatevi meno amici! Oppure fate serate con meno gente! Così da poter giocare più volte! Esattamente come avevo previsto nel video scorso, è uscita la prima espansione di Scienza Brutta! Con un doppio animale! La zanzara, quella bastarda put***a! E il bradipo, quell'inutile! Ovviamente nella confezione troviamo le due schede per i giocatori! Quindi avete un'amica o un amico che succhiano tantissimo? La zanzara è la carta giusta! Oppure avete quell'amico sempre lento, sempre che arriva a ritardo, sempre... Allora il bradipo fa per lui! Un'espansione poi non sarebbe tale se non aggiungesse nuove carte! E oltre alle carte base abbiamo un'altra carta disegnata direttamente da Barbascura! Il bambino con la faccia da culo! Direi che una carta del genere merita di essere protetta per bene! Non sia mai che certe carte si rovinino! Infatti per evitarlo ho imbustato tutte le carte del gioco originale! Vedete quanto sono sbrilluccicose adesso? E se oltre alla carta direttamente disegnata dal capitano non vi bastasse... Tranquilli che avete anche i tatuaggi! Esattamente come quelli nei polaretti! Che belli polaretti! E infatti qua c'è un pinguino! Spoiler per una prossima puntata, barba! Che tra l'altro, piccolo trivia... Quando ho lanciato in aria le carte non riuscivo più a trovarne una e casualmente era proprio il camaleonte che si era mimetizzato! Sto piccolo stronzo! Quindi ci ho azzeccato una volta, ci azzeccherò anche una seconda... Uscirà un'altra espansione del gioco Evolversi! Male! Se dovesse uscire io punto su questi tre animali! Il delfino, il verme Bobbit e ovviamente l'ornitorinco! Quindi signori, voi avete acquistato il gioco e l'espansione? Ci avete già giocato? Fatemi pure sapere qua sotto! Io vi aspetto qui sul vascello della scienza brutta! Con un prossimo unboxing brutto!